il maresciallo d'alloggio varajù aveva ottenuto otto giorni di licenza e pensava di trascorrere dalla signora padua sua sorella poiché era al verde varajù che era di guarnigione a renna dove se la spassava le aveva scritto annunciandole la sua intenzione di dedicarle quella settimana di libertà non è che provasse un affetto sviscerato per la signora padua una baciapile acida ma aveva urgente bisogno di denaro e si ricordava che di tutti i parenti i padua erano i soli che egli non aveva mai sfruttato varajù padre un ex orticoltore di angra ritiratosi dagli affari aveva ormai tagliato i viveri a quel tipaccio del figlio e non lo vedeva da due anni la figlia aveva sposato il signor padua impiegato alle finanze e recentemente nominato esattore delle imposte a van e così appena sceso dal treno varajù si fece condurre alla casa del cognato lo trovò nel suo ufficio impegnato in una discussione con alcuni contadini bretoni dai paraggi padua si alzò tece la mano attraverso il tavolo ingombro di libroni mormorò un momentino accomodatevi e sono subito da voi tornò a sedersi e ricominciò la discussione i contadini non comprendevano le spiegazioni dell'esattore lui non comprendeva le loro obiezioni uno parlava in francese gli altri bretone e lo scritturale che doveva avere le funzioni di interprete sembrava addirittura che non capisse niente e nessuno fu una storia interminabile varajù osservava il cognato e pensava bel cretino padua era sulla cinquantina alto, magro, ossuto, lento, villoso con sopracciglia molto arcuate che formavano sugli occhi i due balconi di peli in lui la parola, il gesto, il pensiero, tutto era ritardato varajù ripeteva tra sé che razza di cretino lui invece apparteneva alla razza dei chiacchieroni chiazzosi per i quali i maggiori piaceri della vita sono il caffè e le puttane tranne questi due perni della sua vita non capiva altro logorroico confusionario pieno di sufficienza verso tutti dall'alto della sua ignoranza guardava sdegnosamente l'intera umanità quando aveva detto perdenci che cuccagna aveva di certo espresso il più alto grado di ammirazione di cui fosse capace finalmente i contadini andarono via padua chiese come state? non c'è male e voi? abbastanza bene, grazie questa visita ci ha fatto tanto piacere avrei voluto venire da parecchio tempo ma voi sapete bene che la libertà di un militare è molto limitata lo so, lo so ad ogni modo ci fate molto piacere e Josephine sta bene? sì sì, grazie tra poco sarà qui è uscita è andata a rendere qualche visita abbiamo tante relazioni qui è una città molto simpatica lo credo ma s'aprì la porta e comparve la padua senza mostrare un grande entusiasmo andò verso il fratello gli ha detto un bacetto e chiese sei qui da molto? no appena mezz'ora ero convinta che il tuo treno sarebbe arrivato in ritardo perché non vieni in salotto? passarono nella stanza accanto lasciando padua ai suoi conteggi e ai suoi contribuenti non appena furono soli lei disse non sentite delle belle sul tuo conto che cosa? che ti comporti come un mascalzone che ti ubriachi e che sei pieno di debiti lui parve stupito io ma nemmeno per sogno non negare lo so con sicurezza Varaju cercò ancora di difendersi ma la sorella gli chiuse la bocca con una intemerata talmente violenta da indurlo a tacere poi Josefin concluse pranziamo alle 18 sino a quell'ora sei libero io non posso farti compagnia perché ho un mucchio di cose da fare rimasto solo Varaju esitò tra un sonnellino e una passeggiata guardava ora la porta della camera che gli avevano assegnato ora quella che conduceva in strada decise per quest'ultima appena fuori cominciò a girellare lentamente con la sciabola sui polpacci in quella triste città bretone così addormentata così calma così chiusa tutto attorno a quel mare interno che è il Morbian osservava le casette grigie i rari passanti le botteghe semivuote e mormorava tra sé non è un posto allegro Van com'è triste è stata una brutta idea quella di venire qui proseguì fino al porto così desolato tornò percorrendo un viale solitario e malinconico e rientrato prima delle 5 si buttò sul letto per dormicchiare fino all'ora della cena lo svegliò la domestica gussando alla porta signore è a tavola discese nella sala umida dove la carta della tappezzeria si stava staccando verso il fondo una zuppiara attendeva su una tavola rotonda senza tovaglia insieme a tre scodelle malinconiche i coniugi padua giunsero contemporaneamente a Varajù si sedettero poi marito e consorte accennarono a un segno di croce sullo stomaco dopodiché padua scodellò la minestra in brodo era il giorno dell'esso dopo la minestra portarono la carne manzo troppo cotto troppo spappolato troppo grasso una poltiglia il sotto ufficiale lo mandava giù con circospezione con ripugnanza a forza era adirato la signora padua stava dicendo al marito e così stasera vai dal primo presidente sii cara non fare troppo tardi tutte le volte che esci ti stanchi troppo la tua salute non ti permette tante visite e poi parlò della buona società di Van delle famiglie distinte che ricevevano e tenevano in grande considerazione i coniugi padua grazie ai loro sentimenti religiosi finalmente in onore dell'ospite venne servito un cotechino compassato di patate e il formaggio tutto lì nemmeno il caffè poiché si rendeva conto che avrebbe dovuto trascorrere la serata a quattro occhi con la sorella e subirne ai rimproveri e ascoltare le prediche senza neanche un bicchierino che l'aiutasse a mandare giù i rimbrotti Varayu sentì che quel supplizio sarebbe stato insopportabile e allora dichiarò che era necessario per lui recarsi alla gendarmeria per far regolarizzare qualche cosa sul foglio di licenza scappò via che erano le sette appena in strada cominciò a sgrullarsi come un cane uscito dall'acqua mormorava corpo di bacco baccone strabacco che penitenza si mise alla ricerca di un caffè il migliore della città lo trovò in una piazza dietro due lampioni a gas nell'interno una mezza dozzina di uomini mezzi signori e mezzi contadini bevevano e conversavano pacificamente senza chiasso coi gomiti poggiati al tavolino mentre due giocatori di biliardo giravano attorno al tappeto verde dove le biglie si urtavano e si rincorrevano si udivano le loro voci contare diciotto diciannove che disdetta il colpo magnifico undici bisogna bocciare con la rossa venti carambola carambola dodici hai visto che avevo ragione io varaggio ordinò un caffè corretto e un cognac il migliore poi il sedete aspettò le consumazioni abituato a trascorrere le serate libere con i commilitoni nel fracasso e nel fumo delle pipe quella calma lo esasperava cominciò a bere il caffè poi votò il bicchierino del cognac e ne ordinò un altro adesso aveva voglio di ridere di gridare di cantare di picchiare qualcuno fra sé e sé stava pensando corpo di bacco sono di nuovo in vena bisogna che mi diverta e subito pensò di trovare qualche ragazza per spassarsela chiamò il cameriere ehi giovanotto desiderate di un po' c'è un posto dove divertirsi in questo buco di città il ragazzo rimase stupito non lo so signore anche qui credo qui ma che significa per te divertirsi non saprei signore bere buona birra e vino di prima qualità scioccone e le ragazze le ragazze le ragazze sì dove posso trovarle le ragazze ma sì le ragazze il cameriere si avvicinò e abbassò il tono della voce volete dire dove sta il casino sì diamine prendete la seconda strada a sinistra e poi la prima a destra al numero 15 bene giovanotto questo è per te grazie signore e vrai giù usci ripetendo seconda strada a sinistra prima a destra numero 15 ma dopo un attimo pensò seconda a sinistra già ma uscendo dal caffè dovevo prendere a destra o a sinistra non importa staremo a vedere proseguì svoltò nella seconda via a sinistra poi nella prima a destra e cercò il numero 15 era una casa d'apparenza piacevole di cui si vedevano dietro le persiane chiuse le finestre illuminate del primo piano la porta d'ingresso era socchiusa e nel vestibolo c'era una lampada rosa il militare pensò è qui di sicuro entrò quindi senza esitare poiché non si vedeva nessuno chiamò ehi comparve una giovane cameriera che rimase stupita della visita ad un sottoufficiale veraggiù le disse buonasera bella bimba le signore sono di sopra? sì signore in sala? sì signore posso salire? sì signore la porta è di fronte? sì signore veraggiù salì le scale aprì la porta si trovò in un ambiente molto ben illuminato da un lampadario due candelieri e due lumi da tavolo vide quattro signore scollacciate che sembravano aspettare qualcuno tra di esse le più giovani erano abbastanza contegnose restavano sedute su poltroncine foderate in velluto rosso granata mentre la quarta sui 45 stava aggiustando dei fiori in un vaso era una femmina corpulenta che indossava un abito di seta verde che quasi come il calice di un fiore lasciava uscire bracciotti opulenti e un seno enorme erosio appena encipriato il sotto ufficiale le salutò buonasera signore la tardona si voltò parve sorpresa ma fece ugualmente un mezzanchino buonasera veraggiù si sedette vedendo però che non era stato accolto con molto entusiasmo pensò che forse quella casa era riservata agli ufficiali e ne fu contrariato poi disse tra sé beh se ne viene qualcuno staremo a vedere e domandò e così come ve la passate la signora corpulenta che doveva essere sicuramente la gerente rispose benissimo grazie poi veraggiù non trovò altro da dire e tutti tacquero ma lui finì col vergognarsi di quell'improvvisia timidezza e disse con una risatina imbarazzata ehi dico è un po' un mortuorio e va bene pago io una bottiglia non aveva finito la frase quando la porta si aprì di nuovo e comparve padua in marsina allora varaggiù dette un urlo di gioia e alzatosi balzò sul cognato l'abbracciò e lo fece ballonzolare lungo il salone urlando guarda un po' chi c'è padua viva padua viva padua poi lasciando l'esattore basito dalla sorpresa gli urlò sulla faccia eeeh imbroglione anche tu ti diverti eeeh e mia sorella te ne freghi eeeh ah 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 pensando ai vantaggi che avrebbe potuto trarre da quella situazione insperata al prestito forzato al successivo ricatto inesorabile si buttò lungo disteso sul divano ridendo tanto sgangheratamente che il mobile scricchiolava e le tre donne sedute si alzarono con un movimento con corde e fuggirono via in fretta mentre l'opulente tardona arretrava verso la porta con la faccia esangue di chi è sul punto di venir meno intanto erano sopraggiunti altri due signori pure in marsina e decorati della legion d'onore padua si precipitò verso di loro oh signor presidente è impazzito è pazzo furioso era venuto da me in convalescenza ma ora lo vedete anche voi è impazzito varaggiù si era seduto di nuovo non capiva più niente poi intuì all'improvviso ad aver commesso un'enorme sciocchezza si alzò e si rivolse al cognato ma dove siamo? chiese dove dove siamo? disgraziato miserabile infame dove siamo? ma in casa del primo presidente signor de mortemain de de mortemain canaglia canaglia ma io io ti faccio richiudere subito in manicomio grazie a tutti grazie a tutti